Catamarano sotto sequestro e quattro avvisi di garanzia spiccati dalla procura. È risultato dell'operazione High Speed dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Gorizia in collaborazione con personale della Capitaneria di Porto. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro probatorio relativo al catamarano per trasporto passeggeri denominato High Speed 7, battente a bandiera greca, attualmente all'ormeggio, presso l'arsenale San Marco in uso alla società Fincantieri e a quattro decreti di perquisizione emessi dalla procura della Repubblica di Trieste. I provvedimenti scaturiscono da una complessa attività investigativa nel cui contesto emergevano indizi di responsabilità a carico di alcuni dirigenti della società Fincantieri e della società di certificazione RINA con riferimento alla falsificazione di quanto attestato dalle certificazioni di navigazione in particolare in merito alle caratteristiche strutturali della nave con potenziale rischio per la sicurezza dei trasporti. Nello stesso contesto i militari operanti hanno notificato avvisi di garanzia a tre dipendenti Fincantieri e a un ingegnere della citata società di certificazione dove si contestavano i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e falsificazione delle marche di bordo libero. Proprio la settimana scorsa era stata indetta una conferenza stampa per presentare i lavori di ristrutturazione del traghetto che a breve sarebbe entrati in uso per il trasporto passeggeri nelle isole greche.